Mentre alla Camera si è avviata la procedura per la richiesta di messa in stato d'accusa del Capo dello Stato avanzata dal Movimento 5 Stelle, la richiesta dei parlamentari di Grillo è quella di tornare alle urne. Che sia eletto Renzi, è ormai chiaro che la minestra di questo governo è andata a male. Vogliamo un governo che sia finalmente degno di rappresentare i cittadini, perché questo è fallimentare e noi l'abbiamo sempre detto. Quindi bisogna andare immediatamente a votare e dare dignità a questo Paese.